La Venere senza serpenti è una sorta di manifesto, fa riferimento a una scultura minoica molto forte di una figura femminile di piccole dimensioni, esattamente come questa, che però ancora tiene ben stretti due serpenti. La mia Venere i serpenti non ce li ha più, quindi si pone in un atteggiamento completamente diverso, per certi versi è disarmata, oramai senza più queste armi, ma d'altra parte è anche con le braccia aperte, in attesa di nuovi significati, di nuove forze che devono arrivare.